Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Cari amici, bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6 Il Mediterraneo è ancora alle prese con il vasto anticiclone nordafricano che persisterà probabilmente per buona parte della prossima settimana Quindi sarà ancora un periodo molto caldo con diversi gradi oltre le medie su buona parte del territorio nazionale Per quanto riguarda questa domenica solo un po' di instabilità all'estremo sud sull'arco alpino Per il resto tanto sole, clima davvero caldo L'Abruzzo così come buona parte delle regioni adriatiche vedranno un clima leggermente più gradevole Difatti le massime non andranno oltre i 29-30 gradi Quindi caldo comunque nella norma I cieli saranno sereni ovunque Nessun rischio di fenomeni neanche nelle aree più interne Difatti avremo una colonna d'aria anche in alta quota Particolarmente stabile e forte che potrebbe persistere anche all'inizio prossima settimana Le temperature minime in leggero calo valori tra i 13 e i 20 gradi Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi Arrivederci al prossimo aggiornamento Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie a tutti